e adesso tocca a noi il Pescara dal 1936 a oggi ha disputato 173 campionati, 20 campionati in serie C, 6 campionati in serie C1, 32 campionati in serie B un campionato misto di A e B e 5 campionati in serie A orgogliosi della nostra storia, fieri del nostro abruzzo, orgogliosi di essere festaresi orgogliosi di essere festaresi festaresi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti